Ma una e due, una e due, due pomari, lo stronzo sarei io, Peter Parr sembra autistico, invece è visto... E' l'ennesima fiamma di Daniele, noi due non abbiamo usato, abbiamo un falotto. Eh, lei è vero, la pilota, d'altra parte. Mi sei seduta a vicino e te lo trovano per tutto il tempo, lo stavessero da tanto. Ma sono già tre settimane. Eh, però ascolti, lei sembrava molto legato. Si, sono molto legato, ne ho un modo scorso io. Ma dai, hai cresciuto. Ma al collo diretti, no? Al collo diretti, no? Qualcuno glielo dica perchè non lo ha ancora capito. Lascia, io mi sto veramente già chiesto. Si, si, era pure fornita, aveva una spersoria al collo. Dai, ragazzi. Mi ho andato vincenzo durante la celebrazione. Ma lei mi dice, secondo me ero più orecchino. Mi dice, avanti, 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 avanti. Bene, bene.